Amici sportivi e non di Teletermini, oggi troviamo qui al campetto dell'associazione sportiva Sporting di Terminorese, il cosiddetto campo di padralupo, dove da qualche anno a questa parte c'è un'associazione sportiva, Mi Alma, e con noi oggi ai microfoni per farla conoscere meglio alla gente di Termini, anche se lei opera a Termini ormai da quasi tre anni, e abbiamo Simona, Mastro Simona, che rappresenta sicuramente questa associazione, dove molte persone fanno diverse discipline sportive, nel modo particolare quella del ballo. Grazie a tutto Simona per averci dato questa disponibilità. Buonasera, parlaci di questa associazione, di questa tua nuova avventura a Termini, anche se dobbiamo dirlo, e le tue origini sono sicuramente siciliane, ma tu vieni da Porto Empedocle. Buonasera a tutti, sì, le mie origini sono di Porto Empedocle, mi ha presentato già il grandissimo Totò, sono Simona Mastro Simone, sono nata nella danza sportiva sin da quando avevo sei anni, questa passione mi è stata tramandata dai miei genitori, quindi così piccola li seguivo, per loro era una passione, poi è diventata una vera e propria professione, che è durata per lo più di 30 anni. Oggi, a causa di un trasferimento familiare, mi trovo a Termini Merese, ho lasciato la mia Porto Empedocle, avevamo un'associazione sportiva, la New Dance Line, che aveva una bellissima realtà, che ho dovuto lasciare, ma mi sono ritrovata a essere ospitata in questa bellissima casa, che è Termini Merese, con bellissime persone, quindi l'associazionismo oggi da me viene praticato qui a Termini Merese. Ballo da quando avevo sei anni, come ho detto prima, praticando la danza sportiva, il mio percorso è un percorso lungo, fatto di sacrifici, fatto di studio, fatto di gare, di competizioni, di essere eseguita da grandi professionisti, grandi nomi, girare l'Italia per lungo e largo mi ha dato tanto, tanta esperienza. Oggi ci occupiamo, l'associazione sportiva diretta tantistica Mialma, si occupa anche, oltre della danza sportiva, anche dell'attività sociale, come il tormentone, che in questi ultimi tempi è in voga ai balli di gruppo, che prendono i più grandi dai più piccoli, i balli sociali che prendono le coppie, quindi questo fa sì che, oltre alla pressione della danza sportiva, ci possiamo dedicare anche alla leggerezza dell'attività sociale. Questo ci permette comunque di fare tantissime iniziative, quali i concorsi di ballo, le gare, le semplici serate, la semplice pizza, il semplice aperitivo, comunque si crea aggregazione tra le persone, si crea sintonia attraverso proprio l'associazionismo. Simona, a Termini ti sei trovata bene, l'hai detto, hai incontrato e continuo a incontrare molte persone che sono davvero partecipi a quello che è la danza, ma ti sei affiancata anche a delle maestre magari che avevano delle esperienze nel passato qui a Termini? Allora, io, essendo che sono venuta a Termini dopo un periodo difficilissimo, quale è il Covid, noi abbiamo attraversato momenti duri dove tutti avevamo perso la fiducia proprio nei rapporti sociali, fisici ed è stato difficile comunque ricominciare a praticare l'attività sportiva. A Termini conosco persone, sempre inerenti alla nostra attività, quale la danza sportiva che congiunge comunque tutta la Sicilia, abbiamo modo di conoscerci tutti, sì, molti maestri di ballo che operavano già a Termini Merese, tra cui, così per caso un giorno, andando in un supermercato, incontrai, ahimè, oggi non c'è più, l'ottimo Toni Artese con la maestra Rosaria Filicicchia, che ci conosciamo, la moglie, che ci conosciamo da più di 30 anni, come ho detto prima, con i miei genitori, mi hanno vista crescere e quindi abbiamo scambiato due chiacchiere, così anche loro provenienti da un periodo difficile. Poi, ovviamente, ricordando il buon Toni, è successo quello che è successo, quindi la maestra Artese ha avuto pure il suo duro momento di perdita e, tra virgolette, ci siamo ritrovate. Io ho con la voglia di iniziare a ripraticare l'attività, l'associazione sportiva e lei, ovviamente, mi ha detto tranquilla, fai perché Termini è una bellissima città, ci sono ottime persone, se ti conoscono potrai avere a fianco persone che ti vogliono bene, anche perché lei già proveniva e conosceva tantissime persone nell'ambiente, anche se lei non lo praticava più perché avevano chiuso la loro associazione, comunque mi ha dato una grossa mano nel farmi conoscere, anche con le sue semplici conoscenze e amicizie che oggi, devo dire, sono diventate anche dei punti di riferimento per me perché, oltre ad essere degli allievi dell'associazione, sono anche degli ottimi amici. Simone, la tua prima esperienza pubblica credo che sia stata qualche giorno fa durante i festeggiamenti di Sant'Antonio, in piazza, all'aperto, con una marea di persone che hanno dato applauso, sicuramente è quella che è stata la serata, presentandosi in massa e applaudendo sino alla fine. Sì, la mia prima esperienza vera e propria pubblica è stata l'altro ieri sera, è stato bellissimo, siamo stati ospiti della programmazione degli eventi per i festeggiamenti di Sant'Antonio di Padova, proprio in piazza Sant'Antonio, a Termini Merese, dove la confraternita ha avuto il piacere, ed è stato grandissimo nostro piacere come associazione, essendo che ho bambini, ho persone del territorio di Termini Merese, essere presenti proprio a far vedere ai propri cittadini quello che si fa. Quindi, ancora una volta, devo dire grazie alla confraternita per averci dato questo momento di visibilità, è stato bellissimo, è stato un successo perché c'era un palter pieno di persone che ci hanno dato grande piacere nell'applaudirci e nell'apprezzare quello che abbiamo dimostrato. Abbiamo dimostrato tantissime discipline, come il choreographic dance, differito nello stile, come il latin e il freestyle, rappresentato dalle bambine, bambinette piccole che partivano dai 4 sino ai 13 anni, e poi abbiamo fatto vedere quello che è la social dance attraverso le signore di una certa età, non più giovanissime, ma anche giovani, che ovviamente si occupano anche di questa attività ricreativa di divertimento, di puro divertimento. Poi ci siamo esibiti anche con degli ospiti, abbiamo avuto una professionista nel settore delle danze orientali che è Carla Salamon, una collaboratrice dell'emittente, e una scuola di ballo, sempre associazione sportiva e dilettantistica, che si chiama Filc Residence di Porto Empedocle, dove io collaboro come professionista esterno, che sono venuti a esibirsi proprio per il piacere di venire a conoscere la cittadinanza di Termini Imerese. Ci sarà un ritorno a Porto Empedocle, credo, il primo di luglio, dove Termini parteciperà a un altro saggio. Sì, il 3 di luglio abbiamo il piacere di essere stati invitati ad una festa, chiamiamola così, ad una festa sempre dell'associazione Filc Residence, che si terrà presso un locale, Casale Federico, di Agrigento, quindi avremo modo anche di poter visitare la Scala dei Turchi, la Valle dei Templi, il territorio di Pirandello, quello ci appartiene tantissimo perché siamo vicinissimi. Le signore dell'associazione, oltre che a darsi a esibire, ballare e divertirci, potremmo fare anche un'uscita culturale che comunque fa sempre bene. Simona, grazie. Ma vorrei concludere questa presentazione naturalmente con una domanda d'obbligo. Quali sono i progetti per il nuovo anno, che sicuramente comincerà poi a settembre? Ora vi fermerete durante il periodo estivo. Settembre-Ottobre si ricomincia sicuramente forse con nuove discipline, con nuovi contatti. Chiamiamola pausa estiva, per me non è una pausa, è sempre un investimento lavorativo alla crescita personale, all'investimento della propria crescita professionale, quindi tutti si riposano, ma io continuo a lavorare. Sì, i progetti che partiranno sicuramente con l'attività da settembre in poi, ovviamente noi subiamo le temperature, non ci agevolano, però ahimè, soffriamo a denti stretti. Sì, in programmazione abbiamo tantissime nuove discipline da inserire all'interno dell'associazione, che coinvolgono dai più grandi ai più piccini, come le danze latinoamericane, il ballo liscio, il ballo da sala, le danze standard, i balli sociali ovviamente che sono quelli che hanno più richiesta, perché ovviamente subiscono meno la pressione degli allenamenti e di quant'altro, si fanno con molta più leggerezza. Poi ci dedicheremo anche all'attività agonistica, che partirà sicuramente ad ottobre. Ovviamente assieme a questo abbiamo in programmazione anche degli stage formativi con professionisti di grande calibro, come Alessandra Tripoli e Raimondo Todaro, che sono molto visibili in televisione. Io ho studiato tanti anni con i fratelli Todaro, Salvo e Raimondo, sono degli ottimi professionisti, sia nel settore della danza standard che nel settore delle danze latinoamericane. Poi ci tengo a dire che la mia formazione è una formazione di un certo livello. Io sono diplomata e formata all'AMB, Associazione Nazionale Maestri di Ballo, e cosa che mi rende anche fiera di Termini Merese è che il suo presidente della regione Sicilia, Massimiliano Gandelli, è proprio un cittadino di Termini Merese. Oltre a chiamarlo presidente, formalmente, possiamo ritenerlo anche un grande amico. Massimiliano è una persona molto seria, opera nel settore da più di tanti anni, e nel settore politico del ballo è una persona molto valida. Quindi l'AMB è una realtà serissima. Quindi ci tengo, perché lo hanno fatto i miei genitori, continuo a farlo io, e questo. Per chi ti vuole contattare, per chi si vuole scrivere, per concludere, chi deve contattare, si deve venire qua? Allora, c'è una pagina Facebook, Associazione Sportiva Direttantistica Mialma, dove è sempre aggiornata con i video, le cose che facciamo, foto e quant'altro. Il mio numero di telefono è disponibile, mi trovate anche su Facebook, sulla pagina Simo, Gero, Mastro Simone Mazza, questo è il mio personale. Il mio numero di telefono ovviamente è scritto là sopra, potete contattarmi, se no altrimenti i riferimenti possono essere anche qui allo Sporting di Termini Merese, attraverso i campetti Padre Lupo. Ovviamente per il momento ci appoggiamo qui, una struttura validissima, il presidente dell'associazione Enza Pantò ci ha ospitati per tutta la stagione che è passata, sicuramente ci ospiterà anche per la stagione a venire, sperando di crescere con i numeri associativi e di poterci permettere una struttura sportiva valida e degna per poter praticare proprio la disciplina della danza sportiva. Io concludo lasciandovi dicendo a tutti i genitori che ci stanno guardando che lo sport, la danza sportiva, è un investimento alla disciplina dei vostri figli. Oggi tendiamo tutti ad accontentare i nostri figli con un telefono, con la tecnologia, invece no signori, un consiglio personale da tecnico sportivo è formiamo i nostri figli ed educhiamoli alla disciplina sportiva come la danza, perché la danza, il ballo, oggi a livello psicomotorio migliorano tutto, sia i rapporti sociali, i rapporti fisici, l'autostima e quant'altro. I nostri bambini hanno bisogno di un investimento sportivo. Grazie, buon lavoro e ci risentiremo. Concludiamo nel ringraziare Teletermini e Totò. Grazie a tutti.